Buon pomeriggio a tutti da Walter Infinito. Oggi è il 28 aprile 2021. Pochissimo tempo per leggervi due miei aforismi. Solo le ore, 15 e 46 minuti. Allora, eccoci qua. Velocemente, molto velocemente, ma con suave dolcezza, io vi dico questo. La vita è un dono ed ogni attimo sfiorà l'eternità. Eh sì, ogni attimo. E poi, l'imperfezione è la vera cura per la saggezza dell'anima. Voi dite, ma come? Imperfetto? Saggio? Anima? Eh sì, perché l'imperfezione è parte della perfezione. Che guarda e osserva e dice, wow, ma che bello essere imperfetti. Che bello essere invisibili, visibili allo stesso istante. L'imperfezione è quella parte che ci fa crescere e ci dona davvero la saggezza dell'anima. L'anima lì che guarda e osserva e sorride da questa imperfezione. Nel cadere, nello scivolare, chiaramente è una metafora. Nel respirare, magari non sempre in modo perfetto e non essere sempre perfetti ad ogni occasione di questa vita straordinaria. Perché l'imperfezione è la bellezza strepitosa per essere saggi. E poi, l'imperfezione è la perfezione. Io l'ho visti camminare ed anche baciarsi. Eh sì, saggissimi, innamoratissimi. E con questo mio pezzo finale di commento istintivo e monologo istintivo, molto breve, vi bacio a braccio e vi dico che l'essenza della vita è capire che la vita deve cominciare ogni giorno. Sempre, ogni mattina. Wow, oggi è il primo giorno di vita. O che faccio in questo mondo meraviglioso? Non lo so, ma ci penserò. Baci baci, davanti all'infinito. Sempre.